Dopo l'ultima regular season dello scorso anno, la palacanestro Portoguaro si è ritrovata nella palestra di Sumaga per il primo allenamento della nuova stagione. Una squadra che parte con tante ambizioni, che forte di tre rinforzi di una certa esperienza, punta senza mezzi termini a giocare per il salto di categoria. Sarà un'annata all'insegna del riproviamoci, anzi quest'anno abbiamo fatto una scelta che va un po' in controcorrente con la filosofia della palacanestro Portoguaro. Ci siamo rinforzati, abbiamo preso tre giocatori esterni, di cui poi sicuramente il nostro tecnico riconfermato Andrea Chiesurin vi parlerà. Dal punto di vista della scelta, è una scelta che va nell'ottica di provare a fare un salto di categoria, questo per dare ai nostri giovani l'opportunità di confrontarsi in categorie superiori, come per esempio la C, anche se il prossimo anno ci sarà una riforma dei campionati. È sicuramente una stagione impegnativa proprio per questo motivo, perché la riforma dei campionati ci restringerà sicuramente il numero delle formazioni che poi potranno accedere alla formula play-off. Ma siamo coperti in tutti i ruoli, abbiamo fatto maturare i nostri giovani e ci aspettiamo anche da loro un anno da protagonisti. Sì, abbiamo deciso di fare questo tipo di scelta a livello societario, con la società. Abbiamo chiesto a dei ragazzi se sposavano la nostra causa. Questi ragazzi sono Davide Tesolin, che arriva da Zano, e Jason De Paula, fresco di vittoria del campionato a Zoppola, e Edoardo Battiston, che arriva dalla vicina Caorle. Questi sono i giocatori che abbiamo deciso di prendere per rinforzare la nostra squadra, che vanno a unirsi allo zoccolo duro dell'anno scorso. Abbiamo avuto anche qualche saluto, ovviamente, per vari motivi, e insieme ai nostri giovani speriamo di fare un campionato importante, un campionato di vertice. Portogluaro sta incominciando a diventare una piazza ambita anche da diversi atleti. Sì, mi permetto di correggerti, sta ricominciando ad essere una piazza ambita. Questo perché c'è stato un percorso intermezzo in cui il Palacanestro Portogluaro ha avuto un leggero calo. Adesso, piano piano, col sudore della fronte, stiamo riuscendo a tornare nei vertici del basket regionale e quindi stiamo diventando appetibili anche per i ragazzi da fuori. Hai detto ai ragazzi che uno dei due posti che hanno diritto alla promozione deve essere vostro. Sì, allora, quest'anno il campionato, con la scusa che il prossimo anno ci sarà la riforma dei campionati, sarà un campionato molto difficile e combattuto. Per poter pensare di fare un campionato importante di vertice che porti al salto di categoria bisogna essere tra i primi due posti che permettono poi di accedere ai play-off, agli spareggi per il salto, in quella che sarà la C unica. Noi ci vogliamo essere, ce la metteremo tutta, non vogliamo nasconderci, dobbiamo però lavorare solo in palestra.